Ogni anno la congestione del traffico nelle aree urbane, medie e grandi costa 11 miliardi di euro. Il trasporto merci su ferrovie è lento, se non addirittura impossibile. Mancano gli interporti operativi e quelli che esistono sono concentrati soprattutto al nord. Secondo uno studio di ConfCommercio e ConfTrasporto, il taglio del 10% dei tempi e dei costi medi del trasporto determinerebbe un aumento di 7 decimi di punto di pille. Sul traffico container pesa in Italia la burocrazia che incide su tempi e costi. L'intermodalità terrestre inoltre paga lo scotto di una rete ferroviaria a collo di bottiglia che non consente il trasporto di tire e container di grandi dimensioni, penalizzando in modo particolare i porti meridionali. Quasi un terzo dei principali porti italiani inoltre è privo di un collegamento ferroviario diretto con la rete principale e circa il 40% non ha un terminal ferroviario nel porto. Tra le proposte di ConfCommercio è la creazione di un registro internazionale dell'autotrasporto, eliminando così doppioni di enti e frenando il fenomeno della delocalizzazione. Inoltre le fantonomatiche autostrade del mare con l'individuazione di porti strategici o l'apertura di notte dell'alta velocità al trasporto merci attraverso la metropolitana italiana delle merci sulla direttrice nord-sud. Ed ancora, secondo ConfCommercio, bisognerebbe utilizzare il servizio intermodale integrato gomma, mare e ferro che potrebbe ottimizzare l'efficienza della catena logistica riducendo la congestione della rete stradale. Infine l'avvio di una strategia nazionale in favore dell'accessibilità e della mobilità urbana che migliori l'efficienza e l'efficacia degli spostamenti.